Allora ragazzi, Flescio in Cucina, veramente contento di essere stato assieme a voi, di essere stato invitato, ho avuto l'onore di essere stato anche in giuria con dei guru del professionismo. Ecco, volevo innanzitutto ringraziarvi a nome di tutti quelli che dall'esterno hanno partecipato a questa bellissima manifestazione in questa sua prima giornata. E contemporaneamente volevo sapere le vostre sensazioni, magari Salvo, tu ditemi qualche cosa. Io quello che posso dire come Presidente del Combat Sicilia, abbiamo organizzato il primo concorso più grande del sud, quindi a livello regionale comunque è il primo concorso più grande del sud, perché domani si ripeterà con i tech design, oggi tutti i miei associati, i combat, che hanno preparato, collaborato duramente con queste condizioni climatiche a creare delle strutture di cioccolato e di cioccolato artistico, quindi hanno dato prova sia che siano dei professionisti, ma nonché combattere con queste condizioni climatiche a fare delle strutture che non potevano neanche realizzate. E Salvo ti devo dare conferma perché io sono stato qui con voi, ho visto veramente proprio l'unione, la professionalità e siete stati veramente compatti. Siamo un gruppo tutti uniti che l'appuntamento si rinnova al Sige, siamo in una fiera internazionale, quindi noi andiamo al Sige per fare delle attività dove abbiamo tutta l'attrezzatura, anche un clima ambientale che possiamo operare piaggevolmente, quindi l'appuntamento si rinnova al Sige e spero che ci sarà anche bene. Speriamo di sì, innanzitutto il prossimo appuntamento è domani perché siamo di nuovo tutti qui. Un'altra voce? Innanzitutto voglio ringraziare la tua presenza, parla in nome dei miei colleghi, siamo orgogliosi di essere in questo torneo regionale, grazie al nostro Presidente che ha organizzato tutti i miei dettagli, noi siamo un gruppo unito dove diciamo sempre che l'unione fa la forza, vogliamo sempre crescere, ringrazio tutti i miei colleghi, veramente ci stimiamo e ci vogliamo bene. Ragazzi, complimenti da Vesci in Cucina e veramente come persona che sono stato qui oggi con voi ma non è la prima volta che vi conosco, devo dire che è riuscito a trasmettere quest'unione, grazie veramente a voi e spero che il messaggio passi. Il puntamento è aggiornato a domani, domani tutti qui. Ok. È nato Ardovino, Roberto Rinaldini. Beh, benomine. E domani mi spende la giornata e ripundiamo il tutto al CIGEP 2014. Dal 18 al 22 siamo allo stand che pubblichiamo tramite la pagina compagnia. Siamo vicino all'arena, all'accademia dove fanno i concorsi, quindi abbiamo una posizione di rilevo e noi ce la metteremo tutte per non fare buc'è. Complimenti e soprattutto spero che il prossimo anno ci sia la seconda edizione. No, non stai. Ok, ciao ragazzi, buon lavoro.